È un neonato fragile che ha bisogno di cure particolari, di un'assistenza altamente specializzata e quindi ha bisogno di percorsi assolutamente molto avanzati da un punto di vista diagnostico, tecnico e delle cure. Però ha anche bisogno di tanta umanità per cui l'umanizzazione delle cure è quello che cerchiamo di fare anche nel reparto di terapia intensiva neonatale perché il neonato riesce a crescere nella sua completezza sia con le nostre terapie ma anche con l'umanizzazione delle cure, cioè la vicinanza della famiglia, la cosiddetta care e per farlo crescere sano queste due cose devono procedere di pari passo. Dottoressa, sono state organizzate anche delle iniziative particolari per quanto riguarda questa giornata mondiale del bimbo prematuro? Come ogni anno in tutte le città italiane del mondo verranno illuminati di viola il colore della prematurità gli monumenti più importanti. A Pescara verrà illuminata la Torre Civica e il Ponte Flaiano. Un altro evento che abbiamo organizzato è donare a tutti coloro che richiederanno il servizio di Green Bike un calzino viola che è stato cucito a mano dalle nostre volontarie dell'Associazione dell'Abraccio dei Prematuri. Nello stesso momento si potranno fare delle donazioni libere per un altro grande progetto che è l'acquario in neonatologia e che stiamo portando avanti da un paio di mesi.